bella ragazzi benvenuti sul mio canale io sono simo play oggi siamo di nuovo insieme per giocare di football 2022 ragazzi come ho detto nel video precedente l'aggiornamento è arrivato e tra l'altro finalmente i server sono attivi dopo tantissime ore di manutenzione quindi in questo contenuto dopo tantissima attesa finalmente inizieremo il mio road to glory la mia scalata nel dream team ovviamente nella modalità campionato creativo e in più spacchetteremo qualcosa perché ci sono nuovi pack con all'interno dei giocatori leggendari e anche altri pack con giocatori speciali quelli verdi per capirci che non si appano però comunque sono molto interessanti e li andremo ad aprire prima di andare avanti in video iscrivervi al canale attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi ragazzi mi raccomando questo passaggio è importantissimo circa il 50 per cento delle persone che guarda i miei video non è iscritta al canale non vi costa nulla è gratis ed è il massimo supporto che potete darmi tra l'altro facendo questa cosa ricevete anche tutte le notifiche siete sicuri di non perdere mai nessun contenuto inoltre voglio ricordarvi che questo video offerto dalla galactic service loro mi aiutano a realizzare tutti i contenuti che trovate qui sul canale quindi vi chiedo il massimo supporto eccoci qua ragazzi siamo finalmente all'interno della modalità creativa vi spiego innanzitutto un paio di cose voi partirete dalla divisione 10 come sono partito anch'io e vi chiederà di fare una partita offline praticamente nella divisione 10 si gioca offline una volta vinta quella partita bastano tre punti per avere la promozione alla divisione 9 dalla divisione 9 si gioca con i player reali per salire la divisione 8 ci vogliono 6 punti quindi due vittorie avete 10 partiti a disposizione ogni divisione diciamo maggiore ci vorranno ovviamente più vittorie per salire alla successiva una volta raggiunta la divisione 1 si va in classifica e si compete con giocatori con una valutazione quindi come i vecchi pass si vincono davvero tantissimi premi ragazzi sono ricchissimi premi ma ve ne parlerò nel prossimo video perché in questo contenuto abbiamo già tantissime cose da fare quindi non perdiamo tempo e andiamo subito ad aprire i pacchetti ovviamente ragazzi precisazione doverosa non dimenticate di andare nella posta in arrivo si preme option oppure il tasto della console che utilizzate equivalente ad option e si va in posta in arrivo e si vanno a riscattare appunto tutti i gp che ci hanno dato in regalo i contratti mirati che dopo vedremo in un altro video insomma mi raccomando riscattate tutto iniziamo subito da qui e poi andiamo alle leggende vi faccio vedere quali sono queste carte c'è bruno fernandez c'è muller c'è locatelli c'è virza c'è visca c'è de jong c'è cialanoglu c'è tadil c'è paillette e c'è otavio sicuramente bruno fernandez e muller e anche locatelli sono molto interessanti quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e apriamo subito il primo pacchetto io direi che un bruno fernandez mi sta bene mi sta bene ma anche un frank de jong anche un frankie vediamo un po l'animazione di questi pacchetti vediamo un po cosa troviamo questa è la prima spacchettata ufficiale di football 2022 vediamo un po cosa esce fuori vediamo un po cosa esce fuori campionato turco tre stelle e no ragazzi e no no mi aspettavo sinceramente qualcosa di più diciamo che poteva andare meglio sono andato a prendere proprio visca che è uno dei diciamo meno in vista di questo pacchetto però adesso ci riproviamo ne apriamo subito un altro andiamo con il secondo pacchetto vediamo un po chi troviamo magari siamo un po più fortunati ragazzi vediamo 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 chi ci esce vediamo quattro stelle quattro stelle birzo birzo allora vediamo vediamo chi ci esce vediamo un po dai 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 serie a c'ha la no glue c'ha la no blu 5 stelle o locatelli locatelli vai ragazzi vai questo mi serviva questo secondo me è un ottimo giocatore su pesse che è sui football adesso comunque ragazzi si va qui per prendere i giocatori lista contratto lista giocatori speciali che adesso è aperta a tutta e noi ci siamo giocate tutte e tre le spacchettate dei featured player infatti mi sono scordato di dirvelo altro che trovarne ancora tre ne potevamo aprire e abbiamo trovato come miglior giocatore appunto locatelli non se ne possono aprire più di tre prima di andare sulle leggende apriamo un contratto mirato lo apriamo nella g league division one ragazzi c'è questo difensore kim min tae che è estremamente interessante 77 velocità 71 accelerazione contrasto 71 comportamento difensivo 72 cioè può comunque essere molto molto interessante e inoltre inoltre no non ha i livelli questi giocatori purtroppo non hanno i livelli quindi rimangono così non sono appabili però io prendo questo difensore sprechiamo il nostro contratto mirato e prendiamo questo difensore vediamo l'animazione ma vabbè dell'animazione delle carte semplici e adesso è arrivato il momento di fare almeno almeno una decina di spacchettate nelle leggende con la speranza di trovare ovviamente xavi perché secondo me è ottimo in pass quindi proviamo subito e andiamo con il primo pacchetto delle leggende di questo e football 2022 vediamo 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 chi troviamo dai dai dammi una leggenda dammi una leggenda non credo che me la darà subito però noi ci speriamo no liga spagnola quattro stelle magari mi da comunque qualcuno di più buono gaia e niente speravo meglio però si sa si sa i pacchetti delle leggende sono così andiamo con il secondo pacchetto delle leggende vediamo un po vediamo un po di trovare qualcuno vediamo un po io vado avanti finché non ne trovo una regà dai dai niente 5 stelle però questo giocatore liga spagnola chi mi dai carval 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 non è male ragazzi non è male due sono andati andiamo con il terzo pacchetto dai su su escila questa leggenda escila la vogliamo la vogliamo la vogliamo dai 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 niente 4 stelle quindi nemmeno chissà che cosa sicuramente chi è chi è canales andiamo con il quarto pacchetto avanti esci qualcosa cara mamma konami esci una leggendina esci una leggendina attenzione riga spagnola 3 stelle dai 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 su apriamo un altro apriamo un altro apriamo un altro dai dai che questa è la volta buona questa è la volta buona dai chi è avanti dammi qualcosa di succulento chi sei chi sei di can 3 stelle schifo schifo vediamo un po se troviamo qualcosa di interessante vediamo un po nulla ancora l'ennesimo pacchetto alla ricerca di una leggenda chissà chissà se konami sarà buona chissà nulla 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 o niente 3 stelle andiamo avanti dai andiamo avanti esci sta leggenda e forza un po riga spagnola riga spagnola 3 stelle ragazzi non stanno entrando sti pacchetti riga spagnola 3 stelle nulla raga che li apro a fare che li apro a fare un titi ma all'over al bassissimo proviamo apriamone un altro dai oggi si aprono tutti dai avanti ragazzi ovviamente voi a casa non lo fate non lo fate io li recupero dai video quindi ma voi non lo fate evitate perché hanno un veramente un drop rate schifoso non esce nulla non esce 5 stelle chi sei che me ne devo fare una leggenda però non è quello che volevo è proprio la leggenda pessima 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 ci sono giocatori molto molto più forti poi inutile per come gioco io è perché per me il centrocampista deve avere il comportamento difensivo alto cioè a velocità sta pure messo bene questo è più un attaccante ma comunque non non mi piace non mi piace ne volevo un altro oh volevo volevo xavi volevo vabbè dai continuiamo magari troviamo pure quello anche se la vedo dura visto che già la leggenda ce l'ha uscita dai vediamo un po' figa spagnola tre stelle non può essere una leggenda figa spagnola tre stelle e non può essere vediamo dai dacci anche xavi dai daccelo questo xavi figa spagnola 5 stelle 5 stelle 5 stelle 5 stelle attenzione attenzione un i simon no niente però comunque se non sbaglio è un portiere decente vabbè ci abbiamo un lui patrizio che è meglio apriamone un altro avanti 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 allora allora 3 stelle schifo 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 vediamo un po' chi ci esce vediamo un po' chi ci esce liga inglese 5 stelle chi sei bernardo beh non male dai può essere interessante eh ragazzi può essere interessante bernardo silva non male ragazzi io direi che per oggi basta così perché già ne ho aperti parecchi ci ho messo un po' di soldini abbiamo trovato una delle tre leggende ovviamente noi volevamo xavi io volevo xavi abbiamo trovato guti in realtà non me ne ero manco accorto che era una leggenda perché a quanto pare non hanno animazioni particolari ma escono così come se fossero giocatori normali forse ero distratto io non so però sta di fatto che comunque sono rimasto deluso perché volevo xavi ci riproveremo ci riproveremo ma direi che per questo video va bene così andiamo direttamente a giocare la prima partita beh ragazzi siamo finalmente pronti per andare in campo divisione 9 ovvero la prima partita contro un essere umano e non contro il computer come nella divisione 10 non vi ho fatto vedere la partita della divisione 10 perché era contro l'intelligenza artificiale quindi ragazzi io direi di cercare l'avversario e andare sul tappeto verde ragazzi io ovviamente ho messo guti in campo c'è la nuova leggenda che abbiamo trovato ho portato un po' di riserve nuove che abbiamo trovato c'è bernardo silva anche in panchina insomma vediamo un po' di provarli ho portato anche in panchina Locatelli ma ho preferito dare la priorità a centro campo a Sergio Busquets perché ha già lo stile di gioco impostato e se no mi fa scendere lo stile di gioco appena ho dei preparatori o Locatelli sale un po' perché lo facciamo giocare entrando nella panchina cambio lo stile di gioco e riusciamo magari anche a metterlo in campo al posto di Sergio Busquets sempre se è in game migliore adesso lo scopriremo io sono curioso della nuova leggenda che abbiamo trovato vediamo un po' vediamo un po' ok ragazzi siamo finalmente in campo pronti per iniziare questa prima sfida contro un giocatore reale ovviamente questa prima sfida della divisione 9 allora gavi subito il primo passaggio bello vai romelone al volo peccato stavo facendo subito il gollonzo proviamo di mettere un buon cross in mezzo vai mi è entrato il tiro sensazionale peccato se no era goal ottimo tira ma no peccato l'avevo piazzata peccato vai continuiamo a spingere ovviamente sono affamato voglio subito i tre punti nella prima partita vai a servire romelu vai che ce la fai mettila piano piano così piano piano così piano piano romelone che tu mi darai un sacco di soddisfazioni secondo me tante me ne darai così vai in profondità ancora per romelu te l'ho detto le soddisfazioni me le darai amico mio le soddisfazioni me le darai è fortissimo Lukaku come era fortissimo del resto in PES 2021 ed è fortissimo anche Zaniolo ha fatto un bel contropiede goal ha segnato kickoff glitch bisogna stare attenti a queste cose ragazzi ci sono i kickoff rasoterra per le vie laterali colpa mia che non sono stato attento ma devi stare attento pure tu perché te lo faccio uguale uguale anzi meglio ancora te lo faccio meglio ancora la tripletta di romelone la tripletta e mo che ho capito che mi fa il kickoff sto attento batti 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 va bene attenzione non ti ingarbugliare che dalla leva non ti ingarbugliare no non lo fate tirare buono con raddoppio bello bello Gavi si porta a spasso tutti quanti va bene liberati e va in porta è arrivato anche il primo gol in questa modalità competitiva di romario l'altro mio gioiellino vai così puyol mannaggia mannaggia un po' più di attenzione in quella fase perdiamo palla mamma mia tutti i rimpalli stava vincendo bloccala grande rubatrice facciamogli uscire romario anche bassissimo dà sempre fastidio di testa prolunga peccato peccato capisco ragazzi che cos'era quell'animazione non capisco si era un attimo spento il gioco dai che è rimasta lì ok ok proviamo un bel cross in mezzo va bene va benissimo no dovevi andare da zaniolo quello ti ho chiesto questa cosa non l'ho capita un po' di confusione e quando c'è confusione ricominciamo no dovevi andare corto non così lungo eh ma ha trovato lo spazio esce lui patrissio con i tempi giusti con i tempi giusti buono così ad allargare vai in profondità vai al volo vai 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 goll'onzo ragazzi goll'onzo non l'ha fatta al volo ha stoppato di petto però la prima volta che vedo in questi cross uno stop preciso di petto di solito la buttavano sempre molto lunga vuol dire che hanno migliorato qualcosa sì e qua mi ha segnato perché ovviamente sono stato poco attento io sempre su questi kickoff sempre su questi kickoff la gente non sa giocare senza kickoff purtroppo vai no da Romario non da Lukaku vabbè buono lo stesso vai vai Lukaku minnaggia mi è entrato il tiro sensazionale non c'era spazio non c'era spazio ok finisce il primo tempo 5 a 2 per noi sicuramente potevamo anche non prendere quei due gol ma va bene così ok secondo tempo iniziato cerchiamo di farne subito un altro ferma bene sperisco puntarlo con Puyol perché leva quasi sempre la palla Puyol ottimo così restando in posizione bella questa cosa di esterno vai vai a servire Goody vai sull'esterno da Goody peccato peccato era potevo sicuramente fare una cosa diversa però volevo andare a servire lui ma non mi è uscito bene il lag va molto meglio non è sparito però comunque su PS4 va molto molto meglio ottimo no è schizzato il pallone peccato vai vedi mantenendo la posizione con Puyol mantenendo la posizione ragazzi correndo all'indietro palla palla ho preso la palla ho preso la palla ma mi da il rosso mi da che s'arbitraggio è assurdo solo giallo meno male Melu va bene vai Nico un bel sinistro rimasta lì mannaggia non sono riuscito a prenderla in tempo vai Goody mannaggia peccato Roberto Carlos che è un ottimo giocatore uno di quelli che io voglio per adesso ovviamente non si può avere più perché era nei pacchetti del bonus veterani ho trovato spazio vai Puyol vai che ti sei preso anche la rimessa dal fondo vai così che te la sei presa no ho sbagliato raga meno male che c'era il mio difensore no ah già va bene così spazza che è confusa la situazione alza il pallone in anticipo Roberto Carlos giustamente mi fa una finta di corpo il pallone va fuori palla loro adesso facciamo dei cambi facciamo dei cambi e facciamo entrare qualcuno di nuovo a centrocampo fuori Zaniolo che è anche ammonito se no si fa cacciare e mettiamo Bernardo Silva così lo proviamo poi voglio questo difensore forze fresche al posto di Kimpembe proviamo questo nuovo difensore Kimmin Teh questo difensore giapponese e diamo un po' di spazio anche a Locatelli al posto di Busquets così prendono un po' di punti esperienza anche loro ok ragazzi siamo di nuovo in campo vediamo un po' se i nuovi entrati lasceranno il segno vai Gutti vai Gutti rientra no peccato sempre tornando indietro con il difensore ragazzi questa è importantissima sta cosa ammazza Gutti e dai e fallo un passaggio bambi Saga pallone in mezzo stop di petto non riesce a calciare e buona per Gutti con il sinistro respinta peccato 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 ho sbagliato io lo lasciate andare dico sempre tornate indietro tornate indietro e poi io lo lascio andare ecco lo faccio sempre mi sono distratto è stato bravo ha messo in pausa ha cambiato lo stile di gioco ha cambiato qualcosa ha cambiato il modulo perché adesso sta giocando meglio vai che c'è lo spazio per Lukaku no ottimo campbell ok ha sbagliato veramente dovevi andare da Gutti però non fa niente ogni tanto fa fatti suoi fa sto gioco ok ottima copertura Vambissaka situazione un po' confusa va bene va bene corri mannaggia Locatelli va bene va bene così dai dai siamo quasi alla conclusione stanno per arrivare i primi tre punti stanno per arrivare lisciato io ho anche sbagliato il tempismo comunque finisce qua ci portiamo a casa i primi tre punti tripletta di Lukaku e due gol di Romario ottima prestazione in generale certo la difesa è un po' ballerina ogni tanto ma è la prima partita dai un secondo sicuramente andrà meglio alla prossima bene ragazzi abbiamo spacchettato abbiamo trovato anche una leggenda anche se non è Xavi ci accontentiamo ha giocato anche Benino poteva sicuramente far meglio i primi tre punti sono arrivati dal prossimo episodio di questa Road to Glory probabilmente farò i tagli o forse no fatemi sapere nei commenti se preferite vedere partite intere o riassunti con solo i gol io farò ovviamente quello che voi preferite quindi numerosi nei commenti io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video un abbraccio e un saluto dal vostro Simo Play bella ragazzo ciao 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 ciao